Cerchio e seno attraverso NT 14 gennaio 2017 Spilla portata al coordinatore del cerchio dal cerusico Dario, allora ricorda il dono che ti porterò ha un grande significato per me Lo indossavo sul mio camice quando operavo in quella terra di sofferenza e di miseria E' un emblema che è universale, non appartiene a nessuna organizzazione terrena Capisci? Però la fonte da cui mi provenne era una fonte d'amore Dammi le due mani Dario Perdonate Sto perdendo o no il controllo Lo so che è lì ma non riesco a controllare lo strumento, perdonatemi Non avete idea di quanta energia dobbiamo utilizzare E l'incorporazione richiede, vedete il fatto di parlare con una voce diversa che so che vi fa piacere Questo è consumo di energia Dario Sì Allora Ripeto ciò che ho detto Questo dono tienilo caro Sì E' unico nel suo genere e ti dà un grande valore Umano, capisci? Sì, grazie Dammi le tue mani ecco così Mi raccomando Dario, lotta sempre Non arrenderti Non arrenderti E quando il lato buio del tuo carattere tende a prendere il sopravvento reagisci 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 e sappi dare il meglio di te stesso Mi raccomando Ecco, aspetta, devo assicurarmi che la spilla sia fermata bene Ecco Grazie Oltre che fratello spirituale io ti considero un collega Va bene e operando insieme potremo fare tanto del bene